Ciao ragazzi, oggi è una ricettina davvero sfiziosissima. Vi facciamo vedere come preparare delle polpettine di melanzana. Sono delle polpettine davvero molto carine, molto facili da realizzare e perfette ad esempio per l'aperitivo o per una cena diversa dal solito. Iniziamo preparando le melanzane. Basterà semplicemente tagliarle a cubetti e metterle in una padella. Andiamo quindi a condire con un pochino di olio, come sempre olio extravergine d'oliva. Vi aggiungo anche una punta di aglio in polvere, ma è assolutamente facoltativo, quindi se non vi piace potete anche non metterlo. E adesso possiamo mescolare. Mettiamo sul fuoco e facciamo ammorbidire. Quando le melanzane saranno cotte le lasciamo intiepidire un pochino e a questo punto possiamo versarle in una ciotola. Andiamo a rompere dentro due uova. E ci tritiamo dentro le erbe aromatiche. Io utilizzo il basilico e il prezzemolo. Però ovviamente potete mettere le erbe che preferite, ci sta molto bene anche ad esempio l'erba cipollina oppure dell'origano, quello che vi piace di più. Dato che in tantissimi ce lo chiedete, queste forbici comodissime per tritare le erbe aromatiche, le trovate nel link nella descrizione. Noi le abbiamo comperate in un negozio ma si trovano comodamente su Amazon. Aggiungo anche un pochino di aglio in polvere, come sapete non amo l'aglio in polvere però devo dire che gli dà un aroma molto piacevole, quindi ne vado a mettere pochissimo. Aggiungiamo anche la ricotta. E iniziamo a mescolare. Possiamo frullare tutto quanto il composto. Se vi piace sentire qualche pezzettino di melanzano potete frullarne ad esempio metà o tre quarti. Come vedete io l'ho lasciato un po' grossolano, non l'ho frullato fino a far diventare il tutto una crema troppo liscia, quasi un omogenizzato, perché mi piace appunto una consistenza un po' più granulosa, mi piace sentire i pezzettini di melanzana. Però è una cosa che va molto a gusto personale. Aggiungiamo il sale che ci siamo dimenticate prima. E aggiungiamo anche il pane grattugiato. Adesso mescoliamo fino ad ottenere la consistenza ideale. Possiamo formare le nostre polpette, vado a prendere quindi un po' di impasto tra le mani e faccio la polpettina. In questo caso le andrò a fare tonde, però ovviamente potete fare anche la forma ad esempio dei burger, fate anche prima. E le vado a mettere in un piatto dove ho messo del pane grattugiato, che mi servirà per fare una specie di panatura. Adesso le impaniamo bene. Volendo per fare la panatura anche più croccante potete utilizzare la farina di mais. Vado a mettere un po' di olio nella padella, questa è la padella che ho utilizzato per cuocere le melanzane. E ci andiamo a mettere le nostre polpettine dentro. E possiamo mettere sul fuoco a farle rosolare bene. Le nostre polpettine sono pronte e in padella hanno rosolato circa 10 minuti. All'interno comunque le melanzane sono cotte, quindi dovrà cuocere soltanto l'uovo e la ricotta e hanno dei tempi di cottura molto veloci. Come vedete sono davvero carinissime. Queste sono perfette per un aperitivo, magari accompagnate da qualche pomodorino fresco, un'insalatina o delle mozzarelline. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se rifate questa ricetta mi raccomando taggateci su Instagram o su Facebook così potremo vedere le foto e ci fa davvero tantissimo piacere. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!